ok salve a tutti e bentornati su teorie videoludiche oggi teoria particolare ci sono forme di vita nell'inchiostro chissà perché dico questa cosa allora allora iniziamo dicendo varie cose nel capitolo 5 questa è la parte che mi ha fatto andare a investigare tutto ciò nel capitolo 5 possiamo incontrare un nemico particolare che compare nella zona ovviamente dove c'è tutto devi utilizzare una barchetta per andare in mezzo a un fiume d'inchiostro questa zona ha come nemico principale la gigantesca mano di ben io comunque una gigantesca mano con il sile cartoon insomma con il guante tutto che cercherà di attaccare la nave di henry senza contare che la prima volta che lo si vede in gioco appunto lo si vede che distrugge un'altra barchetta questa creatura si avventura in questa in questi tunnel nel pieni di inchiostro e praticamente ha una caratteristica particolare ovvero si immerge nell'inchiostro cosa che però va contro la stessa logica che è stata detta lo stesso capitolo in cui c'è questo essere infatti alla fine né quando non si sta per andare ad affrontare bandi quella nuova le singe ellison angel insomma dice che non possono attraversare loro essendo creatura di inchiostro ma anche la giant and lo è quindi com'è che quella può attraversare l'inchiostro mentre loro no proveremo a rispondere a questa cosa dicendo ci sono più tipi di inchiostro o l'inchiostro con cui è fatta la giant and è diverso dall'inchiostro in cui si immerge o il contrario credo però più che altro che l'inchiostro in di cui è fatta giant and sia un inchiostro diverso ora in che senso un inchiostro diverso allora nel libro un po spoiler ma è tutto spoiler teoricamente è una teoria quindi comunque nel libro di band di dreams come to life che cosa succede i nostri protagonisti bad di dot praticamente dovrebbero anche incontrare un'altra tipologia di creatura che è inchiostro è una forma fatta è una creatura trana dell'inchiostro con la vita senza una vera forma precisa che striscia dentro le persone e le controlla dentro quindi abbiamo già un tipo diverso d'inchiostro vivo pure senza contare che questa cosa io ho già un po di idee dove anche metterla nel capitolo sono 5 e anche nel precedente il 4 ma andiamo con calma comunque quindi ci sono più tipi di inchiostro ci sono probabilmente delle creature che vivono nell'inchiostro stesso primo diciamo comunque indizio o provo comunque per questa teoria è la stessa giant hand essendo che si immerge ed esce dall'inchiostro quando vuole altra cosa che potrebbe far pensare che ci siano cose nell'inchiostro è un lost one infatti superata questa zona della giant hand possiamo vedere questa sorta di zona scavata nella roccia con questa sorta di villaggio dei lost one con una statua di bendy che ovviamente serve per venerarlo e possiamo vedere in una delle case che probabilmente si è messa proprio con le basi nell'inchiostro un tizio un lost one che pesca perché pescare nell'inchiostro ci sarà qualche creatura magari quindi anche perché sono persone comunque quelle sono ex umani teoricamente quindi sanno che nell'inchiostro non dovrebbero pescare perché intanto non ci trovano niente però dovrebbero aver quindi visto qualcosa e quindi iniziato a pescare per quello e poi abbiamo fisher a proposito poi io ho chiamato to edgar la forma corrotta ma teoricamente tutti i nomi sono diversi infatti nella butcher gang quella corrotta abbiamo striker piper e fisce quella normale cartoon lo sappiamo barley charlie ed edgar va bene non c'entra niente però per specificarlo comunque quindi quindi fisher come se vedete intanto giant hand si trova va in alto a destra e lo potete vedere un po' piccolo però lo vedete un lost one vi ho messo non è quello che dicevo io però non l'ho trovato quindi eccolo lì lo potete vedere lì e mentre è sotto il lost one che ha in alto a sinistra sotto potete vedere a parte la machine che dopo ci torneremo comunque potete vedere fisher e forse aumentano un dettaglio particolare c'è un pesce attaccato ora i pesci ci sono nel gioco oltre che attaccati a fisher infatti nella base di ellison e con ellison angel e di tom possiamo trovare un acquario con dei pesci ma un mostro sarebbe andato senza motivo a prendere un pesce attaccarselo lì poi un mostro pescatore teoricamente poi che va ad aprire un acquario prende un pesce anche perché l'unico acquario che vediamo nel gioco teoricamente si tratta di quello di ellie che c'è nella base di ellison e tom non vediamo nel gioco per lo meno nessun altro acquario quindi dove cavolo hanno preso tutti sti pesci i vari fisher ci deve essere una fonte di questi pesci magari sono pesci fatti di una specie di particolare inchiostro come la giant hand e poi come è nata la giant hand qui anche è una bella domanda perché si trova lì? allora da quel che sappiamo la giant hand è questa quindi mano che si trova in questo questa sorta di fiume di inchiostro ora sappiamo tutti da dove si generano se comunque non offrete bending machine comunque praticamente tutti saprete se sapete già cosa è bending machine e quant'altro saprete già che tutte queste cose di inchiostro si generano o mettendo facendo uccidere le persone ovviamente si corrompono con l'inchiostro oppure si generano semplicemente queste creature di inchiostro tramite la ink machine ink machine di cui vediamo la parte diciamo principale che vediamo nel capitolo 1 e la possiamo vedere che lì c'ha una bella entrata ci esce una cosa abbastanza grande però mi sembra fin troppo piccola come entrata per la giant hand ma abbiamo una soluzione infatti nel capitolo 5 appunto nel momento in cui si arriva al punto in cui bisognerà poi configgere bendy appunto vediamo la vera diciamo la vera e propria ink machine un macchinario gigantesco che è un edificio praticamente a cui dove possiamo anche vedere che c'è la ink machine del capitolo 1 che scende sopra e la possiamo vedere scendere e la sentiamo anche forse se sentiamo i rumori delle catene anche forse in Boris and dalla survival questa è una mia teoria che siano i rumori della ink machine inoltre la struttura è una sorta di zona dove vengono creati le varie creature noi vediamo nelle teche soltanto Lost Ones e Boris mi ricordo e inoltre c'è una vuota con scritto I still remember my name mi ricordo ancora il mio nome che non mi stupirei se fosse magari quella di Tom perché effettivamente è Thomas Connor e quando viene chiamato Tom reagisce quindi potrebbe effettivamente essere lui quello del messaggio I still remember my name ma comunque quindi è una struttura dove vengono creati delle teche le varie creature non solo ovviamente Lost Ones e Boris ma anche altre creature ovviamente tutte le creature che incontriamo ovviamente nel gioco e inoltre abbiamo questo tubo gigante fuori che possiamo vedere è al centro in faccino vedete un tubo gigante di lì ci passa la Jump Hand ci passa benissimo e avrebbe senso che sia uscita da quel tubo perché uno è una creatura di inchiostro quindi è nata dalla Ink Machine per forza e due se ci pensate quelli in cui Anne rientra nella zona la zona dove vive finita la Jump Hand sono dei tunnel con dell'inchiostro delle solite come di fognature di tubature giganti non so se mi spiego quindi quelle probabilmente sono delle zone collegate alla zona effettivamente di questa Ink Machine gigante ugualmente quando è stata generata la Jump Hand è caduta nell'inchiostro ne è riuscita e ha trovato magari o è immerso probabilmente immersa nell'inchiostro qualche tunnel ed è riuscito a raggiungere la zona effettivamente dove si trova tutt'oggi inoltre non è l'unica cosa gigante che è stata generata da quel tubo eh no ragazzi questa è una cosa che ho scoperto guardando dei video del canale Super Horror Bro che ha fatto vari video evidentemente su Bending Machine e me ne sto guardando un bel po' nel periodo in questo periodo e eh per intenderci vediamo se stiamo attenti possiamo vedere alla destra della della struttura di machine a destra dell'entrata possiamo vedere questa sorta di cosa di inchiostro senza delle determinate diciamo infatti se non c'è una faccia o altro è solo un è l'aspetto è soltanto nero di inchiostro ma ha una forma particolare ha la forma di una cassa con dei tentacoli Chester è il primo nemico di Bending Nightmare Run ed è una cassa del tesoro con i tentacoli quindi nei Joy Drew Studios tramite la Nick Machine non hanno solo creato Bendy la Butcher Gang eh Lost Ones poi eh non lo so i Searcher Giant End hanno provato eh io direi provato a creare anche Chester perché dico provato? perché quello non può essere un Chester definitivo quello a fare non è del tutto Chester quello a fare come possiamo vedere semplicemente dell'inchiostro con una certa forma ma con una certa forma appunto ma non è animato quindi quello deve essere un fallimento un una prova fallita comunque eh poi prima vi parlavo di quell'inchiostro che si striscia dentro e ti fa suo schiavo io avrei qualche idea su effettivamente se c'è dell'inchiostro di quell'inchiostro che c'è nel libro si trovasse anche nei giochi perché allora quella di cui sono più sicuro è il caso di trasformazione di Grant Coin Grant Coin uno dei lavoratori praticamente dei Joy Drew Studios inoltre vediamo anche che utili seri ricominciamo tutto il gioco dopo aver finito il capitolo 5 possiamo anche vedere una delle tombe che ci sono nel capitolo 2 con il suo nome comunque Grant Coin sappiamo che si è trasformato in un mostro d'inchiostro non abbiamo mai visto cos'è da quel che mi ricordo avevo visto un video appunto di Super Horror Bro e praticamente ti aveva ipotizzato che magari era diventato un Searcher o un Lost One secondo me è diventato qualcosa del genere ma secondo me anche è tipo controllato appunto dall'inchiostro e quelli erano i rumori per il fatto che era controllato insomma inoltre probabilmente questo si tratta semplicemente di un inchiostro che si incastra nella vela quello per la barchetta la elica della barchetta ma se invece fosse l'inchiostro stesso che sta nuotando nell'inchiostro l'inchiostro la creatura che sta nuotando nell'inchiostro normale attaccandosi all'elica per cercare di raggiungere Henry e poi attaccarlo e Henry però li distrugge probabilmente se non l'inchiostro che si è messo nella elica infatti inizialmente credevo che fosse l'inchiostro però dubito l'avevo pensato però ora dubito fortemente quindi probabilmente stanno inizialmente l'inchiostro quello ma quello di grand coin secondo me si tratta del mostro inchiostro comunque oggi abbiamo parlato della giant end e del fatto che possono esistere creature che vivono nell'inchiostro quindi vediamo a che punto è il video